Inizio col botto per il campionato di eccellenza. Tanti, tantissimi gol nella giornata d'esordio del massimo torneo direttantistico regionale. Un segnale interessante che arriva anche grazie ai risultati positivi delle formazioni provinciali. L'impresa della giornata è senza dubbio De Rocca, che riesce in un sol colpo a mettere da parte litigi, dimissioni e disoneri e va a vincere in casa del Milazzo. Non inganni il 4-3 finale in favore dell'11 di Ricciardello. Al Malco Salmeri non c'è stata storia. O meglio, il Rocca è stato bravo a gestire il match, anche quando si è venuto a trovare in difficoltà numerica per l'espulsione di Mento. Lo stesso centrocampista aveva aperto le danze al quindicesimo, poi una sciagurata autorreda del portiere di Dio ha spianato la strada alla matricola, che al trentottesimo è stata avvicinata da una realizzazione di Matera. Nella ripresa, Lucarelli, poi Raveduto, Biondo e ancora Matera hanno messo la firma su un pirotecnico derby. Facile, pardon, facilissima vittoria anche per l'Igia Virtus, che al Michale ha chiuso con un 4-0 la pratica orlandina. Come era nelle previsioni, nella prima gara farsa della stagione, la formazione di Capodorlando ha rimediato, senza opporre resistenza, una sonora sconfitta. Doppietta per il difensore dall'Oglio, poi Ravida e Mento. Insomma, per la squadra di Raffaele si è trattato di un semplice e spensierato allenamento. Tre punti all'esordio assoluto in questo campionato anche per lo Sporting Taormina, che con una doppietta di Ancione ha rispedito a casa la Leonzio. Infine, sconfitta a Casalinga per la Forza Calcio, che al buon anno di Messina è stata costretta a lasciare l'intera posta al Sampio X. Peccato, anche perché i portacolori dello stretto erano riusciti a passare in vantaggio con Buscema. I catanesi, però, li hanno ripresi con ranno nel breve volgere di sei minuti. Signorelli nel secondo tempo ha chiuso il discorso centrando il 2-1. Oggi si conclude la sessione estiva di Calcio Mercato. Chissà se gli ultimi botti riusciranno a sbalordire e soprattutto a cambiare le carte in tavola.